Bene amici, tutto lo staff di Cartomanti Europei riunito per salutare e per concludere degnamente questa puntata speciale e particolare delle stelle di Azus. Ci sono proprio tutti, ci sono i nostri super ospiti, c'è la nostra direttrice, la numerologa, il nostro astrologo di riferimento, i centralisti, i ragazzi della post-produzione, della segreteria e ovviamente tutti i cartomanti di Cartomanti Europei che insieme vogliono dirvi Buon Natale e felice a Romo! Cartomanti Europei, a presto!